È una situazione che dobbiamo gestire, devo dire la verità che questo è un ragazzo proveniente dalla Sardegna romano che ha trascorso alcune giornate qui a Cortina e quindi era presente in questo picnic alla Pesca, in questo summer party. Quindi diciamo io mi sono subito sentito con la ULV, con il dottor Cinquetti e abbiamo convenuto di contattare tutti coloro i quali hanno partecipato e di fare proprio a livello proprio cautelativo e prevenzionale un tampone immediato a tutti, quindi nella giornata di domani saranno sottoposti a questa attività. Senta Sindaco, glielo devo domandare, si sottoporrà anche lei al test perché era presente anche lei al TAS? Certamente, mi metterò con la mia macchina incollonato, ho il drive-in e quindi mi sottoporrò anch'io, visto che ero presente insieme a tante altre persone a questo evento e quindi correttamente ci sarò anch'io. Adesso abbiamo questo caso di questo ragazzo, speriamo che la situazione rientri e che non si creino altre situazioni di difficoltà.